Siamo qui con il dottor Gianandre Bonometti, direttore sanitario della clinica veterinaria San Polo di Brescia, da vent'anni una struttura dove opera un team di medici professionisti al servizio della salute degli animali a 360 gradi. Dottore, in cosa specializzate e che servizi in particolare offre la clinica? Allora io ho una specializzazione in patologie cliniche degli animali d'affezione con l'indirizzo cardiologia, quindi ci occupiamo di tutta la cardiologia e della diagnostica cardiologica. Inoltre ci occupiamo in particolare di dermatologia perché sono malattie emergenti per cui oltre ai classici esami effettuiamo test diagnostici sulle allergie ambientali e alimentari e impostiamo una immunoterapia, praticamente una vaccinoterapia al di là delle terapie classiche. Una clinica altamente specializzata quindi dove il lavoro in team fa la differenza? Sì, ci sono medici veterinari specialisti che si occupano di agopuntura, di laser terapia, di ortopedia e perché in questi anni la medicina veterinaria in 30 anni ha avuto un'evoluzione eccezionale. Quali sono i rischi e le malattie più comuni a cui vanno incontro agli animali? Le malattie sono le solite, però abbiamo un'emergenza nel cane con la lesbaniosi e abbiamo la possibilità di vaccinare gli animali per questo, ma anche gli animali anziani come il gatto bisogna sottoporli a controlli per la tiroide, per il rene e anche le malattie dell'animale anziano, quindi il decadimento cognitivo dell'animale anziano e la prostata nel cane dopo i 7 anni. Lei fa anche corsi nelle scuole e propone un servizio di educazione di cuccioli? Io ho la formazione come docente di zootecnia presso l'Istituto Tecnico Agrario Pastori di Brescia, per cui effettuiamo anche dei corsi ai cuccioli, il puppy class, dove i cuccioli possono interagire fra di loro e anche corsi nelle scuole con gli animali per educare i bambini e i ragazzi a avere un rapporto corretto che poi gli rimarrà tutta la vita. Perfetto, grazie dottore. Grazie a lei.